Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay di Aoni Oggi è domenica quindi usciranno gli horror come al solito Anche se in questo periodo mi dispiace molto In questo mese più che altro, mese giugno e maggio soprattutto Sono stato molto assente con i video Non ho pubblicato le cose come erano programmate e mi dispiace Però finalmente dopo tanto tempo riprenderò tutto Perché ho avuto alcuni problemi da risolvere e ho risolto tutto Ora lascerò andare tutto liscio senza intoppi La domenica usciranno sempre due horror come al solito Il lunedì usciranno Super Meat Boy e altri giochi Il venerdì uscirà Griffith David e altri giochi Mercoledì dedicato a maggior parte di Gob Legend oppure altri giochi non so Comunque questi saranno i giorni che spesso e volentieri pubblicano i video Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica Quindi questi giorni cercate di essere sempre nel mio canale Figli di puttana Non voglio essere volgare ma a volte c'è bisogno di essere volgare Bene ragazzi, riprendiamo questo fantastico gioco dove ci eravamo lasciati Scusate, ci sono dimenticato? Ok, perfetto Ci trovavamo qui in questa cazzo di casa e non mi ricordo Io dimentico sempre le cose ultimamente Allora, se non mi sbaglio, avevamo una bambola Bambola Tu sogni d'occhi aperti? Cosa cazzo sto cantando? Lasciate stare queste cose Va bene, ora siamo... Ricordo che abbiamo messo... Prendiamo la pietra comunque, non credo che serva un cazzo qui Andiamo nell'altra stanza Perché l'ultima volta ci ho pensato molto a questa cosa e volevo provare Ah ok, non si può mettere la pietra in quest'occhio Perché più che altro l'avevo pensato tipo... Sai, c'è qua quadrano un cosa? X Pulsante B Vorrei capire questa cosa Indietro pulsante B Ah, X, X Ah ok, ok, no Avevo capito altre cose Sta piovendo, sta piovendo Allora Torniamo indietro Vi ricordo che avevamo portato questa cosa qui Solo che no? Non so dove portarla poi Cioè proviamo a portarla di qua L'unica stanza Che si potrebbe portare Non ho sbagliato, minchia Ora non posso andare indietro Ok Proviamo a portarla di qua In questa stanza Perché l'ultima volta che abbiamo provato Abbiamo notato che questa stanza Non poteva andare da nessuna parte Ma qui si Ok No, aspetta Forse qui dovevamo metterla No Me la fa mettere qui però Boh La luce si spegne e si accende Proviamo Boh, è strana come cosa Sinceramente non ricordo Cosa fare A 100% Però secondo me dobbiamo trovare le altre pietre Il problema è che abbiamo Entriamo in questa stanza Come abbiamo visto l'altra volta abbiamo trovato il nostro amico nascosto qui dentro Qui dentro E qui non abbiamo trovato nient'altro Dopo la statua E basta Ora io cercherei di andare in questa stanza Cioè almeno trovare qualcosa In queste zone Cioè almeno cerchiamo Questo gioco a volte mi fa cagare sotto Ti giuro Mi fa Trovare un'ansia Che è assurda Ah ok Siamo riusciti a passare di qui Ma non serve un cazzo Ah alla fine è la stessa Ok Lasciamo stare Dobbiamo trovare qualcosa piano di sopra Forse 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 però Noi che oggetti avevamo? Oggetti Abbiamo una scheggia di piatto Un accendino Un calciavito Una lampadina Punta stella Pietra rossa e lampadina Salviamo Non si sa mai Allora Qui abbiamo acceso il fuoco Boh è strano come cosa Questo proviamo Senceramente a portarlo Nell'altra stanza Credo che sia inutile lì Allora proviamo Ok Non succede un cazzo Cioè a parte la pietra Noi abbiamo la pietra Se la mettiamo La mettiamo nell'occhio del pupazzo Ho inserito la pietra rossa Nell'occhio della bambola E ok Poi Non è che No Non ha senso Gesù Dio mio Mi sono cacato sotto Porco dio Dio cane Madonna Mi sono cacato sotto Ma in modo assurdo O mi sono mai cacato sotto Per questo gioco Così tanto Cioè questa volta Ho perso veramente 50 anni di vita Mamma mia Perché stava qui Questo bastardo Forse ho capito Forse però Ma è impossibile Come cazzo faccio Cioè sono gli unici movimenti Che puoi fare Poi non riesco A capire Ok fine qui Poi Non succede niente Cioè Non succede un ca Forse ho capito Forse ho capito Su se Rimuove la pietra rossa Ok si Allora prima cosa Salviamo Prima che esca Di nuovo Quel cosa Mi faccia morire Di nuovo Allora Proviamo a mettere Qui la pietra rossa Niente È successo Non mi sbaglio Cioè cosa cazzo Devo fare Con sta pietra Cioè Non riesco a capire Forse dobbiamo Per forza Scoprire Qualcosa qui Però ora che ci penso Questa testa È diversa Da quella Che c'è lì C'è qualcosa Che È particolare Devo C'è qualcosa Di strano Andiamo Uno degli enigmi Si risolvere Dovrebbe risolversi Qui Questa C'ha la mano alzata E non succede Niente Se noi lo mettiamo A questo Forse Riusciamo a prendere Qualcosa da lì L'ho inserito La pietra rossa Nell'occhio Della bambola Ma Non succede Un cazzo Questo Non riesco a capire Cioè io sono andato In tutta la casa Di questa parte Poi c'era Questo numero Dio cane Dio porco Gesù Cristo Forse qualcosa Ci siamo avvicinati Continua Già l'abbiamo messo La pietra qui Ora non ricordo Rimettiamola Forse ho capito C'è qualcosa In qualche altra parte Ma non in questa zona 3 6 1 Sai ora c'è qualcosa Di strano qui Questa scheggia Servirà a qualcosa Dio porco Oddio Ci sono riuscito A scansarlo Questo bastardo Ha capito Che Capisce sempre Quando Viene sempre da me Quando capisco qualcosa Allora No Cerchiamo di fare Così invece Oggetti No Non riesco a capire No davvero Non riesco a capire Solo che Il testone bastardo Sta un po' Lompendo le scatole In questi In questi momenti Una scheggia Una scheggia di piatto Cosa cazzo posso fare Cioè non posso fare O niente Cioè qualcosa Deve esserci Non è possibile Che Non riesco a capire Cosa fare Calciavite Calciavite Cioè niente Sto provando Di tutto Qui c'è Sta corda Del cazzo Forse Dobbiamo fare Qualcosa Al buio No Niente Non mi fa nemmeno toccare Quando spengo la luce Niente Non succede niente Non fa trovare Di nuovo qui Ragazzi Mi sono bloccato In questo episodio Credo Probabilmente Non riesco A capire Dove andare Cosa fare Credo che Dovrò consultare O i vostri commenti O cercare aiuto Da qualcosa Perché se no Rimarremo bloccati Qui per sempre Sinceramente Io mi sono fermato Cioè mi sono bloccato In questo punto Cioè non riesco Ad andare oltre Non riesco A capire Cosa fare Abbiamo trovato Un codice 361 E non mi ricordo Che nelle altre stanze C'era Un codice Da inserire Nelle altre parti Quindi secondo me Meglio che mi ferma qui Anche se non sono riuscito A completare Quasi nulla Però Almeno cercate di scrivere Qualche commento O qualche consiglio Cose che avete Se avete notato Voi qualcosa Che possa risolvere Perché sinceramente Io non ho notato Nulla di particolare Né altro Se voi Riuscite ad aiutarmi Scrivetevi Scrivetevi Nei commenti Bene però Per adesso Ci fermiamo Qui Ci vediamo Nel prossimo episodio Lasciate un mi piace Se questo video vi è piaciuto E iscrivetevi Alla pagina facebook Che ritrovate Sempre sotto la descrizione Ciao a tutti ragazzi Al prossimo episodio